È un giudizio molto positivo, perché comunque qua non è un campo facile, abbiamo visto anche i risultati scorsi della città e delle cittadelle in casa, però anche se noi comunque abbiamo avuto un paio di occasioni dove potevamo fare un po' di più, però purtroppo abbiamo fatto un punto che è sempre meglio di niente. Ero convinto che lo prendesse l'Ibol, che poi penso anche che era un rigore netto, però purtroppo alla fine ultimamente non ci sta andando bene, però va bene, ci prendiamo a questo punto, l'importante è muovere la classifica e stare là. Io non sono proprio un attacante esterno, però l'anno scorso l'ho fatto tutto l'anno, però purtroppo alla fine il calcio moderno non è che non ci sono roli fissi, diciamo. Uno dove può dare il massimo, c'è uno come il mister che ci vede tutta la settimana e quindi penso che mi mette dove io possa esprimermi meglio. Per me era un rigore netto, perché pure parlando con l'arbitro poi alla fine mi ha detto che comunque dietro c'era Sisse che ha avuto l'occasione del gol, però purtroppo alla fine è passata, non ce l'ha fischiata. Abbiamo la prossima partita in casa e quindi adesso diciamo che ci mancano i tre punti, perché abbiamo sprecato un po' i due pareggi in casa, dove potevamo fare un po' meglio, però alla fine è sempre meglio che si muovi la classifica. Non sono fissato, io cerco di fare il massimo per la squadra e penso che arriverà anche il mio momento di risultare. Alla fine comunque gli attaccanti diciamo qua fanno un lavoro abbastanza importante per la squadra, ecco diciamo, quindi alla fine se non li fanno gli attaccanti li fanno gli esterni, l'importante è che arrivano i risultati positivi.